Diciamo ora come ora non ho un grande obiettivo, infatti io ho frequentato qua la panoramost per due anni, poi per ragioni personali, autodosomettere, ma anche seguirlo il più possibile il nostro personale. Stiamo parlando dei rumori che lui fa con la bocca, tipo quando lui ha affestato il fessato di ramo, no. Quindi è per quello che vi dico, dovete leggere tantissimo e da adesso voi dovete mettervi a studiare edizione a casa, non qua, come se non ci fossero domani. Se volete fare quel SM, se lo troverete a qualche parte, i versi sull'unito sono quella roba lì, oppure a volte, ma non è questo il caso, si anticipano a quella, questo è il capello biondo, camminata sicura, eccetera, con quella che di solito è quello che si chiama anche teatralmente, il carattere, il carattere è non qua, quindi vuol dire disassarsi dal microcono.